Non è un po' di carne, non è un po' di carne Dovunque, guarda, da quanto tempo è che c'è la polizia? C'è un spinto con l'attacco con un contenitore calzano o una bimba. C'è un spinto con un contenitore calzano o una bimba. C'è un spinto con un contenitore calzano o un contenitore calzano o una bimba.